Francesca Ferretti, riparti da Modena con una nuova società, ambizioni se possibile ancora più grandi, il Presidente ha detto di voler vincere subito, che sensazioni hai per la nuova stagione che va di iniziare? Guarda, innanzitutto conosco molto bene il Presidente, avendo giocato due anni a Piacenza con lui e sapevo che avrebbe detto così, lui è ambizioso di natura e appunto gli piace vincere e a chi non piace vincere, quindi le sensazioni sono positive, per me rimanere qua a Modena è qualcosa di grande perché Modena è pallavolo, si respira pallavolo, sto benissimo, sono cambiate tante cose ma questa è la nostra vita, ogni anno cambiamenti Le sensazioni sono molto positive e ci resta solo che iniziare a lavorare Il gruppo ti piace, questo gruppo che si è formato, fatto appunto di giocatrici della Liugio, giocatrici che sono arrivate invece dalla Normeccanica Piacenza, più altri acquisti mirati sul mercato, che squadra è? Allora, innanzitutto vorrei dire che mi dispiace molto se si è sciolto un gruppo come quello dell'anno scorso perché è stato favoloso, detto ciò penso che anche questo possa diventare un altro gruppo molto favoloso perché, molto favoloso non si dice però, favoloso, perché comunque sono ragazze che già conosco, si conoscono anche tra di loro, tutte lavoratrici e possiamo creare qualcosa di grande anche quest'anno credo Se dovessi indicare un punto di forza di questa squadra che sta nascendo? Guarda, ci siamo ritrovate ieri e ancora non ho visto come lavoriamo così, però sicuramente in un gruppo femminile conta l'unione, conta anche l'umiltà, non avere magari la stella ma essere tutte, parte anche chi gioca meno, quindi io punto sempre su quell'aspetto lì e spero e sarà così anche qua, sicuramente Senti, noi sappiamo di un tuo tifoso che ti sta molto a cuore, un cagnolino, ma viene ancora a seguirti al palazzetto, dici anche come si chiama? Sì, sì, la puffa, no, non viene più perché quando era cucciola, sapete, i cuccioli si mettono un po' ovunque, adesso che è un po' più grandicella, davanti al palazzetto trema, diventate forse i tamburi, le trombette così Ti segui da casa in televisione? Da casa, sì, mi guardo in tv L'importante è questo Ci fa un saluto ai lettori di Palavolissimo? Sì, un saluto ai nostri lettori e poi un tuo augurio per questa stagione che va a cominciare per la Lugia Normeccano Un saluto a tutti gli appassionati di Palavolissimo e niente, non vedevo l'ora che iniziasse questa stagione, speriamo sia ricca di soddisfazioni a livello personale di squadra Seguitemi, seguiteci tutti quanti e a presto Bocca al lupo Crepi, grazie Grazie